Ciao a tutti, non vedo l'ora di gareggiare la Twill perché è una pista fantastica, è la mia pista preferita ed è la mia gara di coppia del mondo preferita. Ci sono dei muri, c'è un po' tutto, c'è anche una parte di piano, c'è un salto, ci sono dei dossi ed è veramente tosta per noi italiane, quindi venite intanto a farci il tifo che ci gasseremo ancora di più, vi aspettiamo alla Twill, non mancate!